Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi Siamo in diretta sul canale 17 per Occhio ai giornali La rassegna stampa di Fano TV Un cordiale saluto chiaramente a tutti quelli che ci seguono Anche nelle repliche che sono previste fino alle 8.30 del mattino Poi alle 9.10 e alle 13.30 Oltre naturalmente a tutti quelli che ci seguono Sono tantissimi sul nostro sito internet E chi ci segue anche in diretta su internet Buongiorno anche a voi Cominciamo adesso con il santo di oggi E poi le previsioni del tempo Il santo di oggi è il beato Idelfonso Schuster È un santo, un beato che visse a Milano E morì a Milano nel 1954 Nacque però a Roma nel 1880 Il sole è sorto alle 6.21 e tramonterà alle 8 Su questo adesso non ci metterei la mano sul fuoco Che tramonta alle 8 Perché ieri era prima delle 8 Si capisce Vabbè comunque Siamo sulla pagina delle previsioni del tempo Vedete il tempo è nuvoloso Con delle precipitazioni che dalla tarda mattinata Con rovescio temporale di sparsi Saranno probabili nel settore montano ed alto collinare Quindi a partire dalla zona del Monte Feltro Il Nerone Fino purtroppo le zone colpite dal terremoto Quindi Pescara del Tronto Arquata del Tronto Una parte meridionale Vedete della Regione Marche Oggi è prevista pioggia Per la giornata di domani Il tempo è ancora peggiore Sempre nell'introterra Con rovescio temporale sparsi Nelle zone montane e alto collinare Localmente anche di forte intensità Poi questi fenomeni temporaleschi Si esauriranno nel corso della serata Le temperature anche per effetto della pioggia Insomma della perturbazione Diminuiranno nei valori massimi Per quanto riguarda la giornata di giovedì Il tempo migliora Sulla costa c'è il sole Anche nell'entroterra Con qualche residua nuvolosità Le temperature sono in lieve aumento Ci sono indicazioni di tempo comunque stabile Soleggiato anche per il prossimo fine settimana E l'inizio della prossima Adesso andiamo a vedere subito i giornali Cominciamo dalla pagina di Fano Del resto del Carlino Anche qui, anche oggi si parla del terremoto Con gli effetti che esistono Anche nel nostro territorio Nella nostra città Per esempio questo edificio Dalle immagini pubblicate sul giornale Questa mattina Questo edificio ha subito qualche crepa Con il terremoto sono volati Il condominio perde pezzi Da vent'anni La denuncia di Fabrizio Fabbroni Che abita in un palazzo di proprietà del comune Con una scossa importante Rischieremo la vita Il silenzio dei sindaci Nel corso del tempo Stiamo parlando di un condominio Che si trova in via caduti del mare Siamo nella zona della Sassonia I ristoratori invece Per quanto riguarda la solidarietà Si tassano Di 100 euro ciascuno Per gli sfollati del sisma Al bastione Sangallo Proiettato un film Girato nei luoghi della tragedia Via alla raccolta di fondi Il comune è stato violato dai ladri Ieri vi abbiamo fatto vedere le immagini Il comune di Fano È stato violato dai ladri Ci sono stati anche degli atti vandalici all'interno Con rottura di porte Porte che sono state sfondate Gli uffici sono stati messi sotto sopra Verrebbe da dire Ridendoci un pochettino Insomma che hanno sbagliato completamente Mira O forse vivono questi fuori dal mondo Non lo sanno che i comuni Non hanno una lira Verrebbe da dire E di fatti è così Anche nel vero senso della parola Non hanno trovato nulla Se non qualche spicciolo Nella macchinetta delle merendine Insomma questi balordi Sono entrati tra domenica e lunedì E poi insomma il risultato Quello che hanno lasciato sulla strada È tanti danni Vedete questa è la porta per esempio Completamente divelta E gli uffici che sono stati messi appunto sotto sopra La politica La politica sul nuovo ospedale ha fallito Seguiamo la regione Interviene il segretario del partito democratico di Fano Ignazio Pucci Mentre a destra vedete il sindaco di Fano Massimo Serri Non siamo riusciti a trovare una soluzione Resta a questo punto la scelta tecnica Ovvero quella della famigerata applicazione di Google Map Che sceglierà a questo punto Sceglierà probabilmente il luogo dove costruire questo nuovo ospedale Festival del Brodetto torna popolare Ai fornelli ci vanno gli amatori Sfida tra casalinghe e mese in promozione nei ristoranti Dove si potrà mangiare questo piatto delizioso Squisito a pochi euro Insomma con degli sconti Dall'8 all'11 di settembre Torna l'evento dedicato al piatto della tradizione fanese La contrada della croce vince il palio Vince il palio assunta al posto d'onore Vince il gruppo composto da Caminata e Metauriglia Ponte Sasso, Tombaccia, Ponte Metauro, Tre Punti e San Lazzaro E ancora dal resto del Carlino Non ridaremo mai il territorio a Fano Queste sono parole di guerra Guerra si fa per dire di fuoco Del sindaco Sapete che nei giorni scorsi Qualcuno ha ipotizzato L'idea che si potesse tornare sotto il comune di Fano In virtù di una decisione Del Consiglio di Stato Insomma che ha detto Il referendum aveva le carte non in regola Un referendum che però c'è stato E' stato fatto E quindi la Berlino dell'Adriatico Marotta di Fano E' caduto questo muro E Marotta di Fano è stata portata Sotto l'amministrazione del comune di Mondolfo Però adesso Mondolfo dice Noi non ridaremo mai La ex Marotta di Fano Al comune Alla città della fortuna Anche a Ponte Sasso Vogliono secessione Il sindaco Barbieri Che è il sindaco di Mondolfo Appunto anche i contrari Non vogliono tornare dietro Non vogliono tornare al passato Tutti i marottesi sono indignati Per quello che sta succedendo E quindi anche chi era contrario Comincia così L'attacco di questo articolo Anche chi era contrario All'unificazione del 2014 Ora non vuole più tornare indietro E dico di più Sto ricevendo tanti messaggi Da persone residenti a Ponte Sasso Dispiaciute di non appartenere Al nostro comune Adesso non esagerare Perché si sentono abbandonate Da Fano Questa è la Il sindaco Accalorato Che insomma In queste ore Dovrà sicuramente Adesso a parte le battute A parte le risate Dovrà rispondere Alle tante preoccupazioni Dei cittadini Anche perché adesso Non dimentichiamoci A parte che sarebbe Devastante tornare all'antica Perché tutti i documenti Le vie I nomi I soldi che sono stati spesi Tutte le cose Che sono state fatte Anche velocemente Insomma Per sistemare Questi due territori Per unirlo A quello di Mondolfo Insomma Sarebbe deleterio Sarebbe devastante Per tutti i soldi Che bisognerebbe Poi di nuovo rispendere Tutto Poi chiaramente Che ci rimette Sono sempre I cittadini Comunque staremo a vedere A San Giorgio di Pesaro Invece Il resto del Carlino Sempre Sebastianelli Abbattete Le nutrie L'abbiamo visto anche ieri Sull'altro quotidiano Nel lago artificiale Di strada Giardine È un'ordinanza Quella del sindaco Di San Giorgio Di Pesaro Quindi insomma Niente scherzi Ma è tutto vero Per l'abbattimento Di tutte le nutrie Presenti Nel laghetto artificiale Di via strada Giardine Al confine Col territorio Comunale di Piagge L'ha emessa il sindaco Che dice Dispiace sempre Emanare provvedimenti Di questo genere Ci sono comunque Degli animali Interessati Ma era indispensabile Per tutelare La sicurezza pubblica E ancora La moria Sempre a proposito Di pesci Di animali Moria di pesci Sul fiume Foglia Belforte Scarichi Fognari Con il fiume in secca Guardate Le fotografie Che pubblica Il giornale Questa mattina Sono eloquenti Vedete questi pesci Che nuotano Per un po' In quella Che dovrebbe essere Dell'acqua Ma poi In realtà Non è impossibile Credo Viverci Resistere E quindi Il pesce muore E queste acque putride Che Dove è stato Dove è avvenuto Questo sversamento Nei presi di Belforte Insomma Ha fatto sì Che questi pesci Morissero In vasi Ancora pieni Ma c'è poca autonomia Il calo delle portate Va a intaccare Anche le riserve Idriche Poi Con Ricci E Seri Ricci Sindaco di Pesaro Seri Quello di Fanno Nessun passo avanti Sull'ospedale unico Parla Gambini Che è anche Sindaco di Urbino Si consulta Con tutti gli altri Colleghi La conferenza Quella che dovrà Decidere Una volta per tutte Se trovare Appunto Questa quadra Per scegliere Il posto Dove costruire L'ospedale La conferenza Dei sindaci Verrà Convocata Più o meno Verso metà Di settembre Per quanto riguarda Invece La pagina di Pesaro Del resto Del Carlino In questi giorni Chi fa il bagno Al mare Da quelle parti Si sarà accorto Si sarà accorto Della numerosissima Folta Schiera Di meduse Che occupa Il mare E sono meduse Anche Tra l'altro Grandi Vedete La mano Di questa persona Non riesce A contenerla Quindi Sono meduse Grandi E l'assenza Di toni e tartarughe È alla base Della esplosione Di queste meduse Mancano i predatori E dunque La fioritura Diventa davvero Imponente L'inalzamento Poi Delle temperature È anche questo Responsabile Come la pesca di specie Che si cibano Di fito E zooplankton Negli ultimi giorni Tantissime cassiopee Grandi Ma non urticanti E tante noci Tante noci Di mare Questa è un po' La situazione Che è sotto gli occhi Dei bagnanti In queste ultime Settimane Ma la causa Come abbiamo visto E la mancanza Di predatori Adesso Apriamo invece Il Corriere Adriatico Questa è la prima pagina Dell'edizione di Pesaro Di oggi Che ha sempre Il terremoto In evidenza Con la notizia Che la scuola di Arquata Aprirà Tra un mese Ed è questo L'obiettivo Anche di tutti gli altri Borghi Che In qualche modo Faranno l'impossibile Perché alla fine di settembre Si possa rimandare I bambini a scuola Laddove sono sempre andati Spostati di qualche Chiaramente di qualche Decina di metri Ma nel posto Dove sono sempre andati È un segnale Ed è soprattutto questo Che conta Il segnale Della rinascita Invece Il titolo è Per le famiglie Che vivono L'incubo Dello sfratto Si riacutizza Pesaro L'emergenza Casa Convocato Il tavolo Sulle povertà E ci sono due pagine Che oggi dedica Su questo problema Degli sfratti Il Corriere Adriatico L'autunno Caldo degli sfratti Questo è il titolo L'emergenza casa Dato inflessione Rispetto al 2015 Ma l'onda lunga Della crisi Torna a farsi sentire Nella prima parte Dell'anno A Pesaro Nove richieste al mese A settembre Già 12 esecuzioni Definitive L'ufficiale giudiziario Dice Molte persone Che hanno perso Il lavoro Hanno lasciato La nostra provincia E l'altra pagina Invece Sempre su questo Argomento I dubbi Del sindacato Troppi pochi fondi Convocato Per venerdì prossimo Il tavolo Sulle povertà La CGL Dalla regione Cifre ridicole Per questo problema Molte famiglie Rischiano Di non avere Degli aiuti Gli inquilini Il Sunia Resta in trincea Come sempre Per difendere Chi ha subito Questi sfratti Denunciata L'indifferenza Di leggi E di bandi Queste sono Le due pagine Principali Del Corriere Adriatico Poi sulla pagina Di Pesaro La notizia Che la polizia Ha scovato La persona Che ha investito L'altra sera In via Flaminia Un ciclista Grazie social Video E testimonianze La polizia Scova l'investitore Alcune sere fa È stato travolto Un ragazzo In bicicletta Lungo la Flaminia Senza fermarsi Motto Che è stata tamponata Ritirata la patente Il guidatore Alcol Sopra i limiti Di legge Questa è un'altra Notizia Poi al posto Dell'insegna Sempre a Pesaro Guardate che cosa Ha messo il titolare Di un'azienda Un'azienda Un aereo F104 L'azienda È la ditta BMG E questa è la Struttura Che tiene in piedi Proprio Un vero e proprio F104 Un aereo Il titolare Dice Questa è una dedica Che io faccio A mio fratello Con la scritta Ciao Fabio Giacomo Dini Era un militare Dice Mi ha fatto conoscere Questi velivoli Ed è Questa è la notizia Sulla pagina di Pesaro Del Corea Adriatico Poi Il grido D'aiuto di Baldelli Siamo a Monte Maggiore al Metauro La provincia Non ha geologi Il professionista In pensione Dice Servirebbero E come È un territorio Franoso il nostro Guardate Questa fotografia Ma chi Si addentra Nelle splendide Colline Della nostra provincia Si sarà accorto Che purtroppo Le strade Sono un disastro Sono tutte così Come più o meno Vedete in questa immagine Questa è la strada Di isola Del piano Preoccupa anche Il generale Il generalizzato addio Alle commissioni urbanistiche Che avevano prima Un compito E che oggi Non viene più svolto L'opposizione accusa Persi i finanziamenti Democrazia e solidarietà Contro il sindaco A Sant'Ippolito Lavori sfumati A Sorbolongo Ancora Dal giornale Delle Marche La pagina di Fano Apre con il Ride in Comune Poi sotto Il palio Conquistato Dalla contrada Della Croce E ancora Nasce il parco Delle meraviglie Siamo sempre a Fano Dal 3 all'11 Di settembre Al campo d'aviazione Ci sarà una grande Manifestazione Politematica Dedicata ai bambini Si inizia con i dinosauri Di Giomaro Giomaro è Il mago Degli effetti speciali Un fanese che sta Lavorando ormai Da tantissimi anni Per il cinema Il mondo del cinema Della pubblicità E quant'altro E realizza gli effetti speciali Sulle persone Quindi trucca le persone Mostri Realizza queste grandi Queste grandi opere Come per esempio Dinosauri Per proseguire Poi con i giochi Di tira e molla I mondi della fantasia Poi Ancora Dal quotidiano Corriere Adriatico Anche gli esercenti In campo Per aiutare Terremotati L'idea lanciata È quella di dare Un contributo Di 100 euro A testa Per titolari Di bar e ristoranti Devo dire che Già 15 Ristoratori Baristi Hanno aderito Dando appunto Questi 100 euro Il referente Giorgio Ricci Carloni Consiglia di dare I soldi Ad Arquata Palazzo Fatiscente Crepe per il terremoto Anche qui La segnalazione Che arriva da Via Caduti del Mare Dove un residente Dice Siamo stati abbandonati Da Comune E dall'Erap Che è il titolare Degli appartamenti Del palazzo Calcio e tennis Sulla pagina Della Valle del Cesano Calcio e tennis Con piscina Gli impianti Da riqualificare Già pronti Gli elaborati Tecnici In attesa Di un bando Di finanziamenti Da parte del governo Siamo a San Giorgio Di Pesaro Il sindaco Assunto Ad Interim La responsabilità Del settore Dei lavori pubblici Sotto invece Sisma Si attivano I marchigiani In Lussemburgo Il presidente In carica Il sindaco Di Pergola Soldi Per progetti Concreti E ancora Tutti pazzi Per la pizza In piazza Sembrano scioglilingua Ma in realtà È una bella manifestazione Che c'è a San Lorenzo In campo Gli acrobati Della pizza Con gli acrobati Si tocca il clou Della manifestazione Un pubblico da record Per stand ed esercizi Lavoro condiviso Per la focaccia Laurentina In campo Contro la fibromialgia Il triangolare di calcio Che c'è stato a Mondolfo Città di Mondolfo Vinto da officina 36 La fibromialgia È una vera e propria malattia Che a volte Può essere invalidante Ne soffrono tante persone Colpisce l'attività motoria Soprattutto ai polsi E alle mani Ma anche caviglie e ginocchia Può essere associata a stress O a stati fortemente ansiotici Come per esempio l'insonnia Ma in realtà I sintomi sono molto Sono molteplici E purtroppo difficili Anche da diagnosticare Senigallia L'ultima pagina Della nostra assegna stampa C'è la fiera Senigallia Controlli straordinari Contro borseggi abusivi Due stranieri fermati Dai carabinieri La prevenzione Finora Ha funzionato Molti Multati Gli ambulanti Che hanno occupato Troppo spazio Ho usato Microfoni E megafoni Questo è Purtroppo Quello che accade Spesso Nelle fiere Motivo di litigio È sempre Il microfono Il vicino Si arrabbia sempre Con quello che usa il microfono Perché lo usa sempre Troppo A volume Troppo elevato Mentre per quanto riguarda I fuochi d'artificio di Senigallia Che è sempre uno spettacolo Bellissimo da vedere Ma che purtroppo È saltato Per le vicende del terremoto Lo spettacolo verrà recuperato Il 4 oppure Il 7 di settembre Secondo la disponibilità Della ditta Che appunto Realizza Questo spettacolo Pirotecnico E con questo Chiudiamo qui la nostra Segna stampa Grazie per averci seguito Vi ricordo Che le vostre segnalazioni Tutte le segnalazioni Dagli incidenti Fino Al sacchetto Dell'immondizia Lasciato fuori Dal cassonetto Sono importanti E ricordo anche Che Come facciamo ormai Da tantissimo tempo Da sempre Le segnalazioni Più esclusive Le segnalazioni Più forti Quelle Che ci danno La possibilità Di arrivare per primi Verranno premiate Dalla redazione Con una ricarica Telefonica Di 5 euro Grazie per averci seguito A voi tutti Buona giornata